Grazie a tutti. 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 Va bene. Vai a tutti. vai a tutti. va a tutti. 30 secondi. vai a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. 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 . . . bello. . a tutti. . a tutti. . tu. . mi sembra. . . . a tutti. . 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 Vai ancora. Vai ancora. Vai ancora. Davide rompi i coglioni. Ciao Rosco. Rosco sei arrivato segnato. Dai. Vai su. Vai su. Vai su. Vai su. Mi chiamo. Mimoroso fa quattro parli. Quattro parli. Non prendere cartellini. Fermo. 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 Che l'ha? Arbitro. C'è? Arbitro. C'è? 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 Cazzo c'è il parroco che gli ha detto? Eh. 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 Ma perché fino adesso l'ha detto nella sua lingua e non l'hai sentita. C'è? C'è? Cazzo. Cazzo. Vuoi dire di una altra lingua? Non si capisce niente. Almeno ti ammonisce. Te lo dici pure in italiano. Al mezzo. Sei solo. Sei solo. Ce l'hai di là! Cazzo. 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 Eh? Hai detto quello? Lui ha detto che per ora il loro paese non è una mazzeria. Eh. Tu la vedi qua eh? Tu la vedi qua eh? Tu la vedi qua eh? No. Tu la vedi qua eh? Non penso che è qua da un giorno eh. Tu pensi quante ne avranno detto prima quando... Eh. Bravo Fedi eh. Non penso che abita qua da un giorno eh. Sennò il torneo non lo faceva. No. Bla, vai tutto il gol. Uomo dietro? Guardi. touch! Guardalo! Basta! manca un minuto dai su stiamo zitti stiamo lì via dai su ma ha finito di giocare chi è stato? cos'è? bravo fede cacchio vai ce ne andiamo a casa e via